Benvenuti ragazzi, ben tornati in questo nuovo video con il Bricks, sono tornato dalle vacanze, quindi questo è un nuovo video per YouTube, spero che le vostre vacanze siano ancora pieno della loro, diciamo, del loro divertimento, mettiamolo così. Oggi io voglio registrare un video su Fortnite, mi metto qua e vediamo un po', vi ricordo comunque di commentare, c'è un bel mi piace, condividere il video con più vostri annunciati, tutto questo, furti addosso, tiriamoci sulle maniche che ci sarà da incazzarsi parecchio, e andiamo. Uhlala, nuova emote, salta da suave, salta da suave, si è infiata l'emote, non ce l'ho più. Eh? Vediamo un po'? Ahhhh... No. No, ragazzi. Allora, ragazzuoli, vediamo un po', vi direi che... Armadietto, ci mettiamo Jules, ci mettiamo qualcosa di carruccio, qualcosa di non troppo vistoso, ma come questo, dai. Direi singolo, accetta, e andiamo in partita. Allora, ragazzuoli, prima di cominciare, sotto consiglio di alcuni di voi, ho tolto i passi visibili, il fatto che si possa vedere le ceste, vale e vale, perché mi hanno detto che effettivamente l'audio in cuffia migliora, e effettivamente l'audio in cuffia migliora da far paura, sento un bot di più, e anzi, è quasi troppo alto. Lo abbasso leggermente, però adesso sì che ho un'idea su... destra, sinistra, un alto e un basso. Potevate darmi una prima a questa indicazione, eh? E sto iniziando a ricredermi su questo... fucile a pompa, fucile a pompa a te. Ringraziamo l'autobus, come al solito, e direi che come prima partita... Bah, io mi butterei a lago, dai. A me piacerebbe portarvi un gameplay simbolo, cioè, faccio una partita, la gioco. E come va, va? Tanto poi lo so benissimo che scendo, mi ammazzano, e quindi voglio partire, e quindi vedrete che sia una partita come è voluto solito. Poi, oh, magari invece questa volta buona, non ci sono due casse. Ok. Un alto alco blu per iniziare... Tipo non qua. Qua, munizioni. Qua già esplodono cose. Comunque la cassa è di sopra. Credo, eccola qua. Ottimo, sceltini. Mettiamolo subito. E qua stiamo mettendo la posta di inventario. Ma perché smetti di inventare così? Eh, ragazzi, ci sono i tasti che sono fatti a posta per terra, così, quindi... Ok, abbiamo tutto ciò che serve per fare un combattimento. Teniamoci subito. Sì, teniamo... Teniamoci uno, non vale la pena. Qui c'è una cassa, probabilmente. Pistola d'oro. Lo sai che... Non la gioco mai, la pistola, ragazzi. Ah! 33 di vita. Ok, ragazzi. Con la partita mi sa che ho modificato... Qua c'era un problema con le kill, con le win, con la sopporto. Però l'avevo fatto. Vi direi che... Possiamo scendere... A brumiere, dai. Misty Middowson, I'm coming. Possiamo scendere qua. Eccolo qua. Guardate, ragazzi. Io ve l'ho detto. Mi amano ancora. Allora, io faccio così. Comunque scendo qua... E quello lì... Lascio il ping... Così, appena a posto vado a prendermelo. Cioè, adesso. Qualcuno è nella stessa casa. Cott storilà. Qu'è? Ma... Qu'è? 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 vabbè ragazzi tentativo numero 3 andiamo a sabbie sudate sto ancora rosicando per il mio lama ma vabbè con la prima arma dammi il pesce bellissimo andiamo giù con il pesce che devo dire allora io so che una cassa c'è qua sempre questa la so a memoria non perché la sento ma dei shielding non si possono avere no qui c'è una cassa eccola qua ok va bene va bene anche pure bombe per adesso direi che sono ottime mi tolto i materiali briefs comunque raga voi che mi state vedendo giocare da un po di tempo sia nei video che nei live dite che sono un po migliorato o faccio tempo c'è eh beffa se non uno pensi due va bene tutto ciò non c'è nessuno che è venuto qua da me no cassa per noi va bene munizioni ma avrei preferito magari qualcos'altro più interessante ma niente qua qua faccio una cassa qua qua emozioni cassa nulla di interessante giamperine potrebbero perdermi ma per adesso potrebbe visto è che sono in safe non è sceso nessuno va bene vabbè colpi vanno bene pesce piccolo che schifo 43 left nessuno vabbè a suo punto qua ti prego dammi qualcosa ok va bene va bene va bene ui scudini ho visto adesso scudini eeeh e cavolo come faccio no 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 faccio così lo so ragazzi eh lo so già mi state insultando ma se questo fai così per adesso vaffan cuore andiamo 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 non ci credo non lo ma costruivo quarto tentativo non lo so secondo me non so come conto mi sono anche un po' inalberando ma fa niente eeeh ci andiamo a borgo bislacco dai tanto morire per morire a suo punto mi piace una cittadina un po' piccola in cui vedo la gente e i palazzi non sono giganteschi l'importante è come dire un la perché sennò poi mi focuso sul la ma e voglio andare a prenderlo invece no i cavoli tuoi ho appena cambiato le pulsazioni non sei buono non capisci bene devi ancora capire come funzionano le cuffie fate bene infatti i cavoli tuoi e che ti hai visto se hai visto è sceso un po' di gente eh come il nostro politico eh però mi piace questa cosa qua cassa aspettiamo per sicurezza magari esatto ragazzi allora c'è nessuno credo ho comunque già preso una qui c'è una cassa eh dovrebbe essere qua dentro vediamo un po' qui c'ho ragione ottimo via questo per adesso non faccio niente i due attacchi è in casa non so bene dove l'è in casa eh non ho più munizioni c'è no munizioni le ho non ho più materiali ma non ci credo è nel nostro tentativo andiamo a misty meadows andiamo a brughiere mi piacerebbe poi una volta cadere a castello vediamo un po' qui c'è la pace nel frattempo scendiamo a misty meadows e vediamo un po' eh ragazzi più difficile è previsto comunque più difficile è previsto devo proprio non dico come tornare a giocare da zero ma è una bella sfida eh è abituato ad avere da visuale sai che arriva qualcuno o altro a fidarsi solo a orecchie e il problema sarà secondo me in coppia o in squadra quello sarà veramente un grosso problema secondo il mio punto di vista poi magari mi sbaglia però secondo il mio punto di vista sarà parecchio più difficile bene anche qua le casse io so che sono in alto o in basso ma non le vedi il da fidare è solo un dito si qualcuno ha aperto la cassa qua sotto ah no c'è il punto di vista eh ok eeeh mi sa che faccio così si lo so lo so potete insultare vedo ragazzi mi sembra di essere tornato a giocare all'inizio la fipa ce l'avevo sempre però almeno avevo dimestichezza eh per adesso per adesso lo stesso ehi guardo non mi rompere le balle ma tu ho detto non mi rompere le balle ma che che scassa balle i squadri eeeh ragazzi inizio come queste due perché non fa niente non ce lo voglio di restare senza almeno 170 di vita sono pulito ho tutto necessario a parte le medikit ma va bene andiamo andiamo eeeh allora lo si 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.